Non vorrei fare un'analisi politica perché la gente ha capito, la gente ha difeso la Costituzione, la gente è stata sovrana, ha scelto la democrazia alla violenza della democrazia e quindi il referendum è stato bocciato all'unanimità degli italiani perché diciamo che il dato confortante e scandaloso per quanto riguarda il PD è che il 72% ha votato per il no, quindi ha difeso la Costituzione, ha difeso i diritti, ha difeso il popolo, ha difeso la Repubblica Italiana. Chi ha preso una mazzata altrimenti è proprio il PD. Ma io credo che questo sia stato un errore del leader del PD che ha personalizzato questo referendum e questo è stato un errore. Questo era un referendum costituzionale, era un referendum per gli italiani e per l'Italia. Lui l'ha trasformato in un referendum politico, non si risolve così la crisi politica, sicuramente facendo un cambiamento della Costituzione. Quindi gli italiani l'hanno bloccato, gli italiani lo rimandano a casa e sicuramente gli italiani hanno voglia di andare a votare e di scegliere il proprio leader che li guida per i prossimi anni. A livello locale cosa cambia? Diciamo che a livello locale abbiamo la consapevolezza che il centro-destra unito arriva in numeri importanti. abbiamo la consapevolezza intanto che l'affluenza alle urne è alta e abbiamo la consapevolezza che si può cambiare e si deve cambiare. Ma sicuramente dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare soprattutto nelle idee di proporre a questa città uno sviluppo importante per rialzarci da questa crisi che ci attraglia da tantissimi anni. Oltre a voi esultano anche i grellini? Assolutamente. Diciamo che i partiti hanno fatto la propria parte. Noi abbiamo messo il nostro simbolo, noi di Forza Italia abbiamo lavorato per difendere la Costituzione come l'hanno fatto il Partito Liberale, il Comitato per il No e quindi il Movimento 5 Stelle. Ma questa è una vittoria non dei partiti ma è una vittoria del popolo e degli italiani e soprattutto dei gelesi che hanno bocciato il Partito Democratico e Renzi.